giulietto chiesa per pandora tv punto it 9 maggio 2015 settantesimo anniversario della vittoria contro il nazismo come vedete non sono obiettivo lo vedete da questo simbolo io parteggio io festeggio e spero che molti di quelli che mi vedono festeggino con me è un grande giorno sotto molti profili e sotto molti aspetti diciamone due o tre l'occidente in questo momento intendo dire l'europa gli stati uniti hanno commesso uno dei più gravi errori della loro storia hanno dimenticato volutamente una vittoria che era anche la loro l'hanno lasciata interamente nelle mani dell'unione sovietica e della russia di oggi questo è un errore che resterà indimenticabile nei prossimi decenni non nei prossimi mesi non sono venuti non sono venuti a festeggiare anche la loro vittoria hanno voluto segnare la differenza certo poi alla fine si sono parzialmente ricreduti lo ha fatto la germania in qualche modo mandando il suo ministro degli esteri a volgograd lo ha fatto l'italia mandando il suo ministro degli esteri a posare fiori sulla tomba del milito ignoto l'ha fatto la francia mandando la laurea fabius anche lui a fare la stessa piccola miserabile commedia e dall'altra parte noi vediamo questa russia le immagini che vedete hanno molti significati certo una manifestazione di forza è una gigantesca impressionante senza precedenti manifestazioni di forza questo qualcosa deve dire al resto del mondo e soprattutto all'occidente lo capisce l'occidente che ha di fronte un grande enorme potenziale nemico e può scegliere se lo vuole nemico o lo vuole partner collaboratore questa lezione è una lezione che l'occidente deve imparare dobbiamo tutti riflettere in che mondo ci troviamo noi europei abbiamo preteso di isolare la russia in questo momento solenne della sua storia che forse non ha mai sentito con così tanta violenza e forza la parola è proprio questa forze violenza di chi si difende l'abbiamo capito forse non l'abbiamo capito noi pensavamo di isolare la russia noi abbiamo pensato noi che siamo ormai la periferia del mondo abbiamo pensato di isolare la russia ma a mosca sulla piazza rossa c'era il presidente della cina xi jinping c'erano 60 rappresentanti dei paesi del resto del mondo c'era il resto del mondo e cioè noi ci siamo isolati dal resto del mondo questa è una lezione è una lezione che ci viene da un paese che noi abbiamo denigrato e abbiamo offeso gli abbiamo creato la guerra sul tappeto di casa pensando che lo avremmo piegato continuiamo a pensare che la russia sarà piegata dalle sanzioni dall'abbassamento artificiale del prezzo del petrolio dall'isolamento dal disprezzo ma tutto questo oggi è stato cancellato in un solo minuto ecco quello che è accaduto oggi questo ci deve dire lo abbiamo capito era rivolto a noi ai nostri dirigenti politici che non si sono rivelati all'altezza questo è un grande giorno io mi auguro che tutti siano capaci di rendersi conto di che cosa è avvenuto di che cosa poteva non avvenire e di come si dovranno comportare nel futuro prossimo venturo e buon viaggio a tutti intorno al sole oggi abbiamo fatto un grande percorso potrebbe essere utile per tutti giulietto chiesa per pandora tv punto it